Il calcio d'eccellenza Tutti i lunedì su risoluto.it Sul nostro sito e sulla pagina Facebook Oggi esaminiamo la quarta giornata del campionato Che non è stata una giornata felice per i colori dell'Unitas Sciacca Tutt'altro, la squadra Sacciense è stata battuta in casa Con il risultato di 2-1 dall'Atletic Club Palermo Una partita che lo Sciacca avrebbe potuto nel secondo tempo raddrizzare Dopo che ha realizzato il gol del 2-1 ma non c'è riuscito Di questo parleremo chiaramente con Enzo Di Mino Che tutti i lunedì commenta per noi il campionato di eccellenza Con un focus particolare sullo Sciacca Iniziamo dai risultati Nella giornata di sabato la Nissa aveva battuto il Favara Sul terreno di gioco della squadra Agrigentina Con il risultato di 3-1 E poi Aspra Folgore 0-0 Casteldaccia Castellammare 1-0 Geraci Don Carlo Misilmeri 1-1 Mazzara Super Giovane Castelbuono 1-1 Oratorio Sanciro Fulgatore 5-0 E poi lo Sciacca che come dicevamo ha perso sul proprio terreno La seconda sconfitta consecutiva per i Verde Nero Con l'Atletic Club Palermo con il punteggio di 2-1 E quindi la squadra palermitana assieme alla Nissa Guida la classifica con 12 punti Mazzara 46-10 Profavara 7 Super Giovane Castelbuono e Folgore di Castelvetrano a 6 punti A 5 Aspra e Castellammare assieme all'Accademia Trapani 4 punti per Oratorio Sanciro e Giorgio e Don Carlo Misilmeri 3 punti per Casteldaccia, Sciacca e Fulgatore 1 punto per il Mazzara ed il Geraci Io direi di iniziare con Enzo Di Mino Con il commento alla giornata E poi andremo sullo Sciacca Allora Enzo queste due squadre che guidano la classifica Atletic e Palermo che ieri abbiamo visto Sciacca e Nissa Sono le più forti del campionato? No, assolutamente no Almeno per quello che abbiamo visto ieri Qua della squadra palermitana Sarà una squadra che occuperà le posizioni medio-alte della classifica A meno che siccome pare che sia una società a quanto denarosa Quindi interverranno se sarà il caso nella riapertura del mercato Ma quello che abbiamo visto ieri Non è assolutamente una formazione che può aspirare alla vittoria finale O alle prime quattro posizioni Miss e Favara sono più forti? Indubbiamente per quello che abbiamo potuto vedere Abbiamo visto il Favara qua a Sciacca Una squadra molto quotata Anche dal punto di vista tecnico ben allenata E quindi il Favara nonostante la sconfitta di sabato contro la Nissa Sarà una delle candidate alla vittoria finale Naturalmente la Nissa nonostante stendi Lo ha fatto con lo Sciacca Sabato ha vinto proprio Intanto i risultati di 3 a 2 Ha vinto all'ottantanovesimo Con un gol di Semenzin E che si giocatore dell'Agracasse Però è una squadra dal punto di vista tecnico È un organico di tutto rispetto Poi per quello che riguarda la Mazzarese Vecchia Mazzarese Ora Mazzara 46 È una squadra che naturalmente si manterrà sempre nelle prime 4-5 posizioni Perché ha un buon organico Un buon gioco Sta facendo risultati sicuramente all'altezza della situazione E quindi secondo me ci saranno 3-4-5 squadre Che occuperanno la parte alta della classifica E poi tutto si deciderà a dicembre Con la riapertura del mercato E quindi tutte queste società Che capiscono che c'è l'ambizione C'è la possibilità di poter fare un bel finale di campionato Interverranno sull'organico Vediamo allo Sciacca Ecco ieri il primo tempo Sostanzialmente senza grandi occasioni Né da una parte né dall'altra Poi in apertura di ripresa Lo Sciacca che prende due gol Ne realizza dopo un altro Che partita è stata E come è maturata questa sconfitta? Intanto diciamo che è una sconfitta meritata Dobbiamo essere onesti Nei giudicare il risultato finale Nel primo tempo Io ho annotato semplicemente Una punizione della squadra ospite Al quarantesimo Al quarantesimo Mentre lo Sciacca durante tutto il primo tempo Non si è visto nell'area avversaria con pericolosità Nella ripresa Una ripresa scelerata Dieci minuti che hanno permesso alla formazione ospite Di passare sul doppio vantaggio E da lì si complica il tutto Lo Sciacca ha avuto una reazione Una reazione di pancia però Non di testa E quindi si sono riversati in avanti Sono riusciti a fare un gol su Mischia Poi c'è stato un palo Su un'azione roccambolesca Su una palla alta Quindi niente di più Rispetto a quello che ci aspettavamo Dallo Sciacca in una partita Dove lo Sciacca doveva dare seguito Alla discreta prestazione di Caltanissetta Invece ieri è stata la peggiore partita Da un paio d'anni a questa parte E quindi C'è un problema di gioco O un problema di mancanza di qualche uomo In parti nevralgiche del campo Perché questa sconfitta E perché questa prestazione è in colore Questa prestazione è in colore perché Ieri nel dopo partita L'allenatore naturalmente si lamentava Della campagna acquisti Che non è stata fatta all'altezza In quanto sostiene che manca lì a centrocampo Che poi è il punto debole della squadra E' costretto a fare giocare con Cialdi Però ricordo che lo Sciacca Ha altri due giocatori Come Camilleri Che è un play Che è stato preso per giocare là in mezzo E invece gioca sulla fascia Poi c'è Moses Che è un ragazzo spagnolo Che ancora non l'abbiamo visto In campo Naturalmente deve schierare un under In quella zona E di conseguenza Un centrocampo Che non dà assolutamente Il giusto filtro Al reparto difensivo E di conseguenza Da lì si va A disputare Delle partite In colore Ma io Punterei la mia attenzione Su quello che è stato Dopo partita E soprattutto Sulle affermazioni Dell'allenatore Un allenatore che Alla fine sconfessa tutto Dicendo Tessualmente Che lo Sciacca È stato sopravvalutato Lo Sciacca Ha ambizioni Che la squadra Non può assolutamente Soddisfare E quindi A questo punto Da parte della dirigenza Secondo me Occorre fare Un'attenta riflessione Sicuramente Ci sarà Qualche riunione A breve E si deciderà Quello che dovrà essere Il cammino Dello Sciacca Ma La cosa che dico Che per me È fondamentale Non si può Deludere un pubblico Che settimanalmente Riempie La gradenata La tribuna Con prestazioni Che almeno Fino a oggi Non hanno assolutamente Onorato Quelle che sono Le previsioni E le ambizioni Della società Un'ultima domanda Avendo visto Già alcune Delle squadre Avendo letto Anche i nomi Delle altre Quelle che non hai visto Ancora All'opera È uno Sciacca Che comunque Può ambire A una parte Medio alta Del campionato Attingendo all'organico Del quale dispone O per farlo Deve cercare Rinforzi Ma La natura sostiene Che Perché io In conferenza Ieri Gli ho puntato il dito Su Concialdi Che è messo lì Come player Che non è mai stato Un player Almeno noi Lo conosciamo Come Un mezzo Attaccante Di fascia Oppure centrale Secondo me L'organico Che lui È a disposizione E nelle condizioni Di poter Disputare Un ottimo Campionato E soddisfare Le ambizioni Le ambizioni Della società Con il 4-3-3 Come sta giocando Oggi E con gli uomini Che lui Mette in campo Difficilmente Anzi A questo punto Scusate Ma Io mi guarderei Di più Alle spalle Che in alto Bene E in attesa Di vedere All'opera Le squadre Del campionato D'eccellenza Nelle prossime Partite Ancora un grazie A Enzo Di Mino E a Genzenova Che collabora A questo progetto Di risoluto.it L'appuntamento È a lunedì prossimo